Sono stati arrestati in tre e ancora calcia al quarto uomo mentre finiscono in carcere due pregiudicati di Giuliano e uno stabiese, il basista della banda, Giovanni Brano, di 46 anni, già detenuto nel carcere di Cassino. Incastrati a tre mesi dal colpo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che li ritrae mentre fuggono dal quartiere dell'Annunziatella con un'auto e un furgone. I tre avevano lasciato a terra nel sangue la vittima Michele Cimmino, fratello del consigliere comunale, portando via dal negozio, alla periferia di Castellammare, un bottino di 13.000 euro di gioielli in oro. Adesso per tutti e tre si aprono i cancelli di poggio reale. Grazie a tutti.